Uno scenario che poteva essere prevedibile, ovviamente tutti speravamo che non si concretizzasse, invece purtroppo è così. Che cosa può succedere per la nostra economia, soprattutto pensando al prezzo dell'oro? Uno scenario, quello che è successo con l'invasione della Russia e dell'Ucraina, ha sostanzialmente in qualche modo messo in crisi sicuramente la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, ma dal punto di vista dell'export e del nostro import non avrà contraccolpi significativi, perché in valori assoluti abbiamo un numero abbastanza modesto, sia per quanto riguarda l'export che per quanto riguarda l'import, soprattutto nei confronti dell'Ucraina. Viceversa per quanto concerne la Russia, in materia soprattutto di metalli preziosi, l'import ha dei valori significativi, ma comunque assolutamente molto bassi rispetto a quello che è necessario per la nostra produzione locale. Quindi secondo lei per l'approvisionamento della materia prima, dell'oro in particolar modo, non ci dovrebbero essere contraccolpi importanti, ci si dovrà riferire ad altri mercati ovviamente? Non è detto, adesso vediamo come verranno implementate queste sanzioni, che sappiamo sicuramente ci saranno, e in che termini poi andranno a colpire ovviamente i singoli materiali. Certamente per quello che riguarda l'import sarà necessario pensare anche dei piani alternativi, perché comunque già oggi una buona parte, una buona fetta dell'approvvigionamento dei materiali, in particolar modo dell'oro, sostanzialmente viene sicuramente fuori dalla Russia e dall'Ucrania. Anche se ovviamente ci sono valori significativi, ma ripeto, in termini assoluti, assolutamente poco rilevanti. L'ha toccato lei in apertura di questa intervista, il problema ovviamente del caro Energia, era un problema già grave prima, adesso potrebbe aggravarsi secondo lei sì o no, e che termometro ci può dare, dal vostro punto di vista, rispetto alle aziende soprattutto? La situazione è sicuramente preoccupante dal punto di vista del rincaro dei beni energetici e frutto questo sicuramente di una situazione contingente legata a questa ripartenza, a questo rimbalzo improvviso anche della produzione. Certamente lo scenario geopolitico non aiuta e in questo momento è difficile fare previsioni, siamo però in un contesto abbastanza solido che è l'Alleanza Atlantica, per cui comunque non siamo soli anche a livello europeo. La cosa preoccupante è che comunque il piano della transizione energetica ancora purtroppo in Italia stenta a decollare, ragion per cui bisogna cercare di spingere ancora sul piano di ripresa e resilienza, perché comunque una ripartenza anche sulle rinnovabili, sul green, sulla transizione energetica a questo punto diventa irrinunciabile e improrogabile.